Ciao a tutti ragazzi sono Fede95Edita e in questo nuovissimo video vi farò vedere il mio album di Yu-Gi-Oh! Aggiornato con carte rarissime Iniziamo Allora Raviel Poi Drago Armato Scuro Prima edizione rarissimo Guardate Uria Poi tre Dico ben tre forze riflesse Prima edizione nessuna rovinata Poi Delle carte vecchie c'ho lupo geneticamente modificato Ma ce n'ho due Ecco l'altro Con questa nuovissima carta è mai arrivata da poco Rara segreta bellissima Guardate Poi Qua come al solito Vabbè stesse carte Spiro del faraone Quei tre sarcofici Vabbè Qua non guardate che è rovinato questo gurribolato livello 10 Perché Non è rovinato Perché sotto ce n'ho un'altra De gurribolato livello 10 Perfetto stato Metto questa solo perché è ultimate E vabbè Qua sempre le stesse L'immortali terrestri Con l'immortali terrestri Questo qua Rarissimo Poi Poi Energia arcana ex Il signor oscuro Guardiano del cancello Con I tre Per evocarlo Poi Tutte le mie ultimate Neptis Dinosauro Questo qua Iper distruttore Vabbè Guardate Un rise ultimate Ma anche se è rovinato Lo stesso raro Queste due sono nuove Ultimate Non so così rare Però so ultimate Neos grandioso Ero elementare Rarissimo E vabbè Forza di riflessa Radiante Drago all'inere Syncro Ultimate Prima edizione da pacchetto Rarissimo Tutte le mie syncro Che qua ho venduto tutti i draghi C'avevo anche il drago polveristere E gli altri Vabbè queste non sono rarissime Tutte le mie fusioni Tra cui Neos dell'arcobaleno Rarissimo E vabbè Guardate tutte le mie fusioni Plasma Eccetera E vabbè Poi Due mobius Quattro Dico ben Quattro Caius Due Zaborg Tre Creatori oscuro Con uno Del Giapponese Guardate Giapponese Due cyber drago E Un gold Di gold ce ne ho tre E Due gold Ce ne ho tre ma uno sta tra le ultimate E Zodianegro Con contratto di Zodian Poi Jerex Vabbè Queste sono le secret Tra cui questa qua Anche se è proibita Ma lo stesso bellissima Imperatore Il caos Drago Drago di alta qualità E vabbè E qua vabbè Sono finite Celestia Atena Fideli della luce Vabbè Qua il video ormai E' completamente finito Le carte sono queste E vabbè Commentate Iscrivetevi Fedele un'altra cinque vita Ciao a tutti E Grazie.